L'amore fa dell'arte il mondo delle possibilità, give love one more chance, l'amore ti chiede sempre un'ultima possibilità e l'arte gliela dà, e qui tocca a Mark McQueen rispondere alle necessità dell'amore, è una prospettiva interessante quella da cui lui parte, guardi questa statua, Chies, il bacio, è il ritratto di due veri innamorati viventi, veramente portatori di handicap e veramente sposati.